ciao a tutti anime bentornati su quinta dimensione letture vi saluto tutti calorosamente vi ringrazio davvero di cuore a tutti quanti agli abbonati che sostengono il canale grazie di cuore agli iscritti altrettanto e anche a tutti i nuovi vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanellina cliccando su tutte di andare a vedere proprio sotto la descrizione del video perché avete i tempi delle letture che faremo avete tutti i link per andare a vedere per esempio gli accessori creati da me come questo che è la tovaglietta dei messaggi divini le altre tovagliette gli oracoli che ho creato io e su quinta dimensione letture punto it trovate proprio tutti i contenuti di approfondimento con esercizi meditazioni approfondimenti tante cose da leggere per voi sotto forma di blog sempre sul mio sito trovate proprio l'opportunità e tutto quanto ben descritto per parlare con me scegliere il servizio che vi interessa quindi fate un giro chi vuol parlare in privato con me proprio sul sito web allora oggi facciamo questa canalizzazione molto profonda angelica e vediamo proprio una risposta che deve arrivare per te tu concentrati su un diciamo una questione su un qualcosa che ti sta a cuore in questo momento e andiamo a vedere proprio tutto quello che viene fuori come energie quello che viene a me che non è dalle carte e poi ti faccio fare una domanda specifica che potrebbe essere se sulla cosa quindi continuiamo il filone del discorso della lettura che stavamo facendo che tu hai scelto oppure proprio un'altra domanda anche su un'altra questione allora andiamo le letture oggi faremo la prima l'apatite blu la seconda l'ametista eccole qua prepariamo intanto i nostri mazzetti vediamo i messaggi di line oracolo quello che deve arrivare oggi la canalizzazione particolare apatite blu e ametista vediamo due messaggi ancora su quello che che devi sapere adesso di importante proprio da dire lettura 1 lettura 2 per chi interessa mettiamo anche un oracolo sull'amore poi faremo la domanda alla fine e metterò anche un consiglio in più per te va bene queste sono le letture quindi numero 2 ametista qui c'è libera scelta di quello che volete scegliere e ascoltare e ascoltare e questa è la numero 1 con la apatite blu perciò partiamo subito con la prima eccola qui apatite blu vediamo che cosa arriva poi ti farò fare quando ti dico una domanda va bene quindi partiamo adesso vediamo già sento che insomma ci saranno messaggi qua allora vediamo lettura numero 1 proprio in questo momento gli angeli sono coinvolti nella tua vita 554 544 cambiamenti in arrivo quindi intanto ti stanno informando proprio livello angelico proprio reame angelico e ora qui e ora quando tu trovi questo messaggio va sempre bene non è a scadenza questo video non c'entra niente quando io l'ho fatto quando l'ho caricato ma quando lo trova la persona che sta ascoltando quindi in questo momento abbiamo una presenza coinvolta nella tua vita che viene proprio dal reame angelico quindi se magari già senti una certa vicinanza senti delle presenze delle situazioni che tu capisci essere proprio non terrestri tipo non lo so dei soffi di vento dei tocchi delle cose particolari questi sono tutti diciamo segnali o vedere spesso sempre quel numero eccetera che ti indicano che c'è qualcosa andare a vedere questi numeri puoi andarli a leggere bene il significato ad ascoltare bene nella playlist numeri degli angeli che è sempre sotto nella descrizione del video cambiamenti in arrivo è un altro messaggio per te che arriva proprio adesso qui mi è arrivato qualcuno sulla casa mi sta arrivando quindi chi insomma quella parte di voi che ha a che fare con la casa dicono che c'è un coinvolgimento proprio sul discorso casa qua per qualcuno ovviamente questo prendetelo per quello che è a chi interessa c'è il messaggio se non è per te è per qualcun altro andiamo avanti leggiamo ancora abbiamo geremiel qua vedete il superare le difficoltà ora il peggio è passato e stai superando tutte le difficoltà un bellissimo messaggio qua che è arrivato e infatti se fate caso il discorso del del reame angelico coinvolto nella tua vita per che cosa è per fare diciamo un superamento per andare oltre le difficoltà aiutare le persone la persona a andare proprio oltre a togliere tutti gli ostacoli e ti dice proprio che il peggio è passato quindi qualunque sia la tua situazione sappi che la fase peggiore è dietro di te è alle tue spalle non è davanti a te perché il peggio è passato va bene le difficoltà magari anche se sono ancora rimaste delle cose le andrai a superare ricordati che hai questa presenza qua angelica nella tua vita e i cambiamenti ci sono perché vanno di pari passo queste due carte superando le difficoltà arriva anche il cambiamento ed è in arrivo ci dice qua per l'apatite blu proseguiamo vediamo ancora e apri le ali arcangelo ariel non trattenerti il momento è perfetto e sei pronto a spiccare il volo vedete come come stiamo parlando qua proprio di una strada di un percorso di qualcuno vedete come dalle difficoltà dai blocchi dal peggio che c'è stato stiamo andando verso la fine qua un stupendo messaggio di risoluzione qualsiasi sia cara anima la tua preoccupazione e il tuo problema questo è un chiarissimo messaggio che è dietro di te il peggio la sofferenza che è passato le difficoltà che hai avuto gli ostacoli anche le persone magari coinvolte che t'hanno colpito t'hanno fatto insomma delle cose quindi diciamo che il peggio è assolutamente dietro non è avanti a te perciò apri le ali spicca il volo buttati ormai abbi fede che stai superando le cose ci sono i cambiamenti in arrivo qua sempre mi sento molto su casa e famiglia comunque per molti è ma arriva proprio forte questo messaggio casa e famiglia comunque non è ovviamente solo questo per altri riguarderà la sua situazione guardate sempre qual è la situazione personale vostra e poi la associate ok se non risuona proprio provate a cambiare il mazzettino va bene proseguiamo vediamo in amore a chi interessa ovviamente l'amore vediamo conoscersi eccolo qua in amore se svelate l'uno all'altra il vostro se più nascosto rafforzate il vostro legame quindi qua è un invito comunque a svelare se stessi cioè se siete già in coppia o se state in una fase diciamo anche di conoscenza di qualcuno dove le cose diciamo ma non è che l'una esclude l'altra però insomma è indicato parlare chiaramente sì da subito cioè senza insomma fare tante storie o inventarsi chissà che cosa qui ci vuole chiarezza in amore potrebbe essere uno dei motivi magari per cui le cose o sono ostacolate o non stanno andando non stanno procedendo qui c'è da svelare da parlare quindi dovete farlo voi verso la persona ma dovete anche esigere che la persona debba farlo verso di voi questa è un'energia che deve essere sbloccata cioè proprio della chiarezza del conoscersi del parlare chiaro in amore questo è quanto è uscito vediamo adesso allora vediamo con la domanda fai una domanda qualsiasi che ti interessa anche sganciato dal discorso che abbiamo fatto qua fai una domanda domanda per l'apatite vediamo un miglioramento di salute qui andiamo incontro proprio finalmente chi magari zoppicava un pochino su questa faccenda su questa questione al miglioramento proprio della salute quindi una bellissima notizia che vado anche a leggere ma anche se non c'è diciamo tutto questo bisogno però preferisco allora gli angeli vogliono farti sapere che la salute della persona per cui posto la domanda migliorerà quindi anche la tua eventualmente puoi chiedere l'aiuto dell'arcangelo raffaele e dei tuoi angeli custodi per velocizzare il recupero questa carta può anche spingerti a vivere in maniera più sana se senti l'impulso di disintossicarti da cibi o sostanze nocive dovresti seguire questa intuizione abbandonare le cattive abitudini ti farà sentire forte e sano quindi o parliamo proprio di salute cioè magari una convalescenza da una malattia qualcosa un posto operatorio eccetera sia tuo che di persone per cui insomma ti interessa per cui chiedi oppure proprio un invito cara anima a togliere insomma dell'abitudine un po poco sane un pochino più tossiche sia bevande vizi magari anche insomma cibi un miglioramento proprio sul fatto di togliere della disintossicazione dice che se tu già hai questo impulso te lo sentivi già dice che è corretto questo è un diciamo un invito e ti dice sì eventualmente fallo hai avuto insomma diciamo l'impulso diciamo così corretto ora vediamo vediamo che altro viene su cui lavorare vediamo l'esercizio sempre dall'angelo per la lettura numero uno apatite blu il consiglio gioia numero 32 è in arrivo la felicità e siamo vedete agganciati a quello che abbiamo detto finora vediamo allora qui vediamo un bel giallo associato anche al terzo chakra questa carta ti indica semplicemente che va tutto bene che i dubbi che ti assillano le paure che manifesti non hanno ragione di essere e che è in arrivo per te una meritata porzione di felicità o di qualsiasi cosa si tratti accoglila con disponibilità e gratitudine rilassa la zona del ventre secondo chakra e del plesso solare terzo chakra allora qui ti consiglio una cosa impara a non chiuderti in te stesso e ad apprezzare ciò che la vita ti riserva mantieni il cuore aperto preparati a ringraziare gli angeli e cerca di assaporare la tua porzione di felicità piccola o grande che sia perché a volte basta il sorriso di un bambino o il profumo di un fiore per vedere le cose sotto un aspetto diverso questo è proprio un invito a rilassarsi cara anima respira visualizza proprio secondo e terzo chakra arancione e giallo come da colore no qua di questa carta che ti è uscita di questo consiglio che ti è uscito e sappi che c'è in arrivo la felicità come qua ci diceva tutte le difficoltà sono superate i cambiamenti in arrivo e in arrivo la felicità vedete quante volte esce la parola arrivo va bene qua spiccare il volo la salute migliorerà perciò va bene mi raccomando la chiarezza per chi interessa proprio in amore la chiarezza di parlare chiaro di approfondire la conoscenza l'uno dell'altro con verità non con parole o cose inventate andiamo diretti se ci prendiamo ci prendiamo se non ci prendiamo non era tutto qua va bene questo è quanto cara lettura 1 mi raccomando vi ricordo che mi era venuto molto anche il discorso famiglia eredità quindi vi chiedo insomma magari dopo fatemi sapere sotto nei commenti eventualmente com'è la vostra situazione io vi ringrazio tutti quanti comunque lettura 1 grazie mille se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale e io vado avanti proseguiamo quindi con l'ametista con la lettura numero 2 eccola qua poi mettiamo la domanda per te ti farò fare una domanda quando ti dirò farai la domanda e poi mettiamo anche l'angelo vediamo su che cosa ancora va a premere quello che mi arriva ovviamente te lo dirò partiamo sono con te chiamami tre volte numero 34 gli angeli e i maestri ascesi sono con te in questo momento manifestazione proprio di vicinanza qui abbiamo non solo il reame angelico abbiamo anche il reame dei maestri ascesi quindi magari qui nella lettura numero 2 metista abbiamo anche chi fa i raggi perché il collegamento è maggiore chi ha i raggi lo come dico sempre e da sempre ha una connessione maggiore con le alte figure proprio anche di maestri ascesi quindi 34 un numero che dovresti andare a guardare nella playlist numeri degli angeli che trovi sotto la descrizione di questo video vai a trovare sia il 3 che il 4 ma anche il 34 perché anche i messaggi angelici sono nei numeri quindi non è mai un caso anche se ti capita di vedere spesso dei numeri vai a vedere poi nella playlist numeri degli angeli o se hai tu altre fonti altri libri magari puoi andare sempre a controllare non farli passare perché sono comunque tutti segnali che ti arrivano tutte sincronicità perfette che ti arrivano quindi abbiamo sia reame angelico e maestri ascesi va bene oppure l'uno oppure l'altro e sono con te in questo momento chiamare tre volte il potere della metafisica come quando si dice il tre volte tre tre volte tre ma anche tre solo è tre o sei volte o nove volte partendo sempre da tre minimo come dire grazie 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 è fatto è fatto è fatto angeli venite angeli venite angeli venite insomma quando si fa il tre diciamo volte tre tre volte tre il potere aumenta c'è proprio la chiamata forte energetica quindi qua abbiamo questa presenza che vuole essere anche chiamata ti sta anche invitando a essere insomma che tu chiami questa presenza procediamo ancora vediamo ancora altri messaggi la terapia degli angeli qui abbiamo raffaele e dice affida le tue paure le tue preoccupazioni a noi angeli e consentici di liberarti dai pesi che ti affliggono quante volte dico anche qua se anche in privato è anche in privato il discorso di dare a loro ai tuoi angeli le tue preoccupazioni i tuoi problemi li affidi proprio gli dai proprio il compito di liberarti da questa sofferenza loro saranno proprio ben felici sono ben felici di aiutare qualsiasi cosa il problema tu lo dici gli dici allora chiami intanto miei angeli venite miei angeli venite miei angeli venite io vi affido questo e spieghi che cosa è quella cosa e vi chiedo proprio di togliermi questo peso che mi affligge no l'arcangelo raffaele proprio te lo sta chiedendo il potere anche dentro diciamo questa frase anche della guarigione del raggio verde per esempio no dell'arcangelo raffaele ma non è che è solo lui ci sono una miriade di esseri di luce che alla chiamata rispondono quindi poi per ognuno diciamo insieme anche agli angeli custodi personali proprio della persona quindi non è che ce n'è solo uno abbiamo dipende poi dalla cosa che stiamo chiedendo abbiamo diverse entità angeliche positive che vengono proprio in aiuto quindi comunque questo fallo perché ti solleva sentirai poi dopo che hai fatto questa frase sentirai o da subito o dopo poco o il giorno dopo proprio un diciamo un sentirti più leggera più leggero si sente provate vediamo un angelo ancora giofe l'arcangelo giofe che diamo raggio 2 il giallo oro all'aperto esci respira aria fresca e connettiti con la natura per alleviare lo stress e attrarre idee originali e creative bellissimo quindi qua c'è da andare cara anima c'è da uscire c'è da andare in natura connettersi col pianeta non stiamo sempre in casa perché abbiamo anche tra l'altro la possibilità uscendo fuori di attrarre più energia come dice qua addirittura idee originali e creative io so comunque di persone che quando escono hanno delle intuizioni quando non sanno che decisione prendere vanno a fare la camminata vanno a fare la corsetta vanno a fare la passeggiatina vanno fuori a leggere si appoggiano al parco è e gli viene l'intuizione è vera questa cosa è vera quindi quando potete cercate di andare il panorama che si apre chiedete proprio anche all'esterno chiedete proprio anche gli spiriti della natura magari quando siete in un posto verde no chiedete proprio che vi diano le risposte quindi comunque c'è da uscire qua magari qui si sta troppo fermi si sta troppo in ambienti chiusi bisogna prendere proprio il pianeta che ti chiama qua cara anima lettura numero 2 metista è il pianeta che te lo dice va bene vediamo adesso chi interessa anche il discorso amore vediamo una carta sempre energetica ovviamente che ci dice un po la situazione che cosa sarebbe da fare vediamo tenere la mente aperta questo c'è da fare la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetto che frequenti di solito quindi qui si va a riferire ovviamente alle persone che non ce l'hanno ancora no perché se te lo dice vuol dire che si sta rivolgendo questa lettura più che altro a quelle persone all'ascolto che stanno cercando eventualmente un amore una persona per la vita un compagno una compagna per la vita però cosa ti dice che tu magari degli standard hai troppo quei paletti ficcati là che deve essere così 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 non è detto ti dice qua che deve essere come pensi tu magari potresti stupirti quindi lascia aperte questo è un consiglio grande tutte le porte perché non è quello che pensi tu che accade è quello che attiri che accade che è diverso da quello che pensi e poi tra l'altro c'è anche da dire che se c'è un incontro di anime che deve avvenire lo incontri quindi non è che se tu pensi al biondo al moro alla bionda alla mora succede quello che tu hai pensato no succede quello che deve succedere che è molto diverso quindi abbandoniamoci un po a quello che viene va bene non perché uno si accontenta però permetti almeno che davvero si manifesti quello che si deve manifestare perché se no lo controlli e controllando non è detto che è la strada tua quella là perché la mente controlla ma è una falsa verità quella lì quindi togli togliere la mente sugli stereotipi di come deve essere di cosa deve fare e fai un po cadere le cose fai un po andare le cose come devono andare fai questa prova tenere la mente aperta vuol dire proprio questo sganciarsi dai diciamo dai paletti va bene dagli stereotipi che ci cantiamo da soli la tua anima gemella intanto è una notizia nel senso c'è in giro qua un'anima gemella però non è come t'aspetti tu questo era il messaggio che ti doveva arrivare mi raccomando soprattutto quelli che hanno molta difficoltà in amore fai adesso una domanda che può essere sganciata da qualsiasi cosa abbiamo detto qua fai una domanda per l'ametista continua così vai avanti così cara anima su qualcosa che ti interessa a te allora andiamo vediamo questo è il momento sbagliato per arrenderti quindi ti dice che se vuoi raggiungere qualcosa non è il momento di fermarsi andare avanti chi in questo momento era un po in bilico lo faccio non lo faccio qua ci sta dicendo di continuare vediamo adesso qual è il messaggio l'altro consiglio angelico ricerca numero 6 ciò che stai cercando è molto vicino a te bene andiamo a leggere subitissimo qui è vicino a te allora non sempre è necessario andare lontano per trovare ciò che ti interessa basta guardare il mondo con occhi diversi se ti rendi conto di ciò che puoi fare nei confronti di te stesso o degli altri potrai trovare più facilmente delle soluzioni rilassati divertiti e cerca di ascoltare con il cuore questa carta ti ricorda che puoi mantenerti in equilibrio utilizzando l'energia del terzo chakra saggezza e assenza di giudizio del quarto comprensione amore e del quinto chiarezza nella comunicazione allora qui abbiamo terzo quarto e quinto chakra quindi abbiamo proprio la zona tutta centrale è andando su allora un consiglio per te è questo per tutto il giorno osserva le persone che ti stanno intorno e ciò che ti accade accantonando qualsiasi tipo di giudizio e lasciando parlare solo il cuore fai questo esercizio non solo con le persone che ami ma anche con quelle con cui sei in conflitto sarai stupito dal senso di serenità che proverai a fine giornata quando vai a dormire invia un pensiero d'amore a tutti coloro che ti circondano quindi questo è un esercizio molto diciamo contemplativo di andare veramente in fondo è un po' una prova questa che vi chiedono nonostante questo ciò che stai cercando è molto vicino a te ti invita proprio per quello perché tu nel silenzio nella contemplazione nell'assenza di giudizio trovi la verità trovi le cose che devi fare quindi ricordati per un giorno fai questa cosa accantona ogni giudizio lascia parlare solo il cuore ma non solo perché dopo sarebbe troppo facile con le persone che ami con tutti con tutti e sentirai più come ti ha detto qua anche una certa leggerezza va bene quindi lavora molto sul terzo quarto e quinto chakra anche con la cristalloterapia per esempio no con bilanciamento perché ti aiuterà a trovare la forza proprio della volontà questo che ti è arrivato proprio come messaggio va bene quindi cerchiamo di proseguire in questo percorso anime in questa strada in questa ricerca appunto continua così qui c'è una strada ancora aperta la lettura numero due è proprio una lettura di apertura di strade che si parlano davanti a noi quindi sta a noi poi cercare di mantenerci sul cammino di trovarci giusti nella strada va bene cara anima grazie mille se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale io vi saluto tutti vi ricordo di leggere la descrizione del video chi vuole e anche di andare su quintadimensioneletture.it vi ricordo anche cofi.com per una domandina veloce che vi rispondo dietro ad una donazione gratuita piccolissima e poi c'è proprio anche uisio bene il canale uisio per i video consulti io vi ringrazio ancora tutti quanti vi aspetto presto su quinta dimensione letture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti grazie